Aprite carabine! Meglio fare tutto il cuore! Ma siete voi? Accomodateli? Che c'è di così urgente? E dove sta? Che vi manca adesso? Facciamo poco gli spiritotti, dove sta mio amore? E io che ne saccio? Ah non lo sapete? Ah lui lo sapete voi? Avete sentito? Non lo sai? Ah non lo sa? Vediamo se lo sai? No! Ah non lo sa! Il tuo vettuto non vuole parlare? Ma non fa male allora? Ma allora ti hai già pugio! Ma guarda è pugio, è pugio! Che non mi fate più pausa! Ma perché la cercate qua? Ma che qua? Ma chi ve l'ha detto? Qua non c'è mai venuta? Chi la conosce a vostra moglie? Da casa sparì, è qua questa centrale! Qua ho visto! Ma non dite sciocchezza! Chi l'avrebbe vista qua poi? Un'aggi inaccurata perciò la picciata! Avevo fatto vedere la fotografia della signora Don Peppo guardiaporta! Ha detto che stamattina l'ha vista entrare qua e era in chiuscita! Sentito, vede qua deve stare! Ma qua non c'è mai venuta! Che ne sapete voi? Che devo fare io? Eh Don Peppo guardiaporta! Lui ha fatto vedere la foto! Ho capito! Ah! Avete detto un portinale! Si! Un portinale! Un portinale! Un portinale! E come avete fatto a trovare? Come avete fatto? Io sono dieci anni che abito qua e l'avevo visto in Guardiola una volta! E poi voi! E poi voi! E vi fidate di quello! Quello è uno zanaluto! Un disgraziato! Un bambino! Pensate che una volta non voleva far entrare mia moglie nel palazzo! Perché diceva che non l'aveva mai vista e non poteva abitare là! Ma che me frega! Ma i portieri tutti sanno! Ehi! Ehi! Basta con te chiacchiere! Dove l'avete visto? Ma che cosa? Ehi! Calma piccioni! Calma piccioni! E la bignera sono! E ora signor Gargiulo! E ci farà visitare il suo pantanello! Così vediamo se c'è sta! Oppure no! Io non vi faccio visitare proprio per niente! Avete capito? E sapete che c'è di nuovo? Adesso voi! Ve ne andate immediatamente da questa casa! E se volete tornare! Vi dovete procurare un mandato dal giudice! Signor Burgodier! Un mandato! Ma voi pazzo! Ma che pazzo è proprio!